Sono i vicoli sotto il palazzo municipale, il cuore dello spaccio a Gualdotadino. Via San Benedetto, Via della Volpe, Via della Bastola, Via della Mattonata si trasformano di sera ma non mancano episodi anche in pieno giorno in luoghi dove si compra e vende sostanza stupefacente, lì dove non arrivano le telecamere della videosorveglianza presenti invece nelle piazze. A questo mercato clandestino è stato inferto un duro colpo pochi giorni fa quando i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comando di Gubbio, hanno tratti in arresto un cinquantenne del posto, un gualdese di professione autista bloccato a bordo della propria auto in Viale Don Bosco e trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente. La perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire 35 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish e tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente compreso un bilancino di precisione. Sequestrato in casa anche denaro contante alcune migliaia di euro che si presume essere stato provento dello spaccio. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire tramite i rinvenimenti la fitta rete di clienti che il cinquantenne aveva costruito. Si tratterebbe di una clientela disomogenea di età tra i 20 e i 50 anni, tra cui anche insospettabili. L'uomo una volta arrestato è stato sottoposto a processo per direttissima dove ha patteggiato la pena e, usufruendo della condizionale, è stato rimesso in libertà. Fondamentale in questa operazione il lavoro di intelligence messo in campo dai carabinieri di Gualdo Tadino che per giorni hanno seguito i movimenti degli avventori di questa parte del centro storico, partendo anche da segnalazioni di cittadini esasperati dal continuo via vai, hanno portato avanti lunghi appostamenti potendo contare anche sulla collaborazione degli stessi residenti. Un'operazione di squadra a cui si è giunta la polizia municipale, il cui risultato accende una luce su cosa sia oggi il centro storico cittadino. Il progressivo spopolamento di famiglie e attività commerciali ha creato luoghi dove agire quasi indisturbati con i vicoli divenuti per eccellenza zone borderline della legalità.